La comunicazione e dell'organizzazione degli eventi Hotel, resort d'eccellenza e dimore storiche Da Terme di Saturnia Spa e Golf Resort a Pellicano Hotel E ancora, Cassa Diva Resort e Media Hotels International Sono solo alcune delle strutture alberghiere di lusso presenti all'evento Grazie a tutti! La comunicazione e dell'organizzazione degli eventi Grazie a tutti! Grazie a tutti!